Allora, chiamo Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Jotti, è grande animatrice delle iniziative di questo centenario che sono andate, è vero Presidente, bene nonostante le difficoltà, gli slalom che la pandemia ha inevitabilmente creato. Intanto grazie cara Alessandra di averci aiutato a costruire questa serata così bella, voglio portare i saluti anche del Presidente e del Direttore dell'Istituto Gramsci che con noi ha costruito questo evento e voglio ringraziare molto tutte le autorità che prenderanno la parola così come voglio dare un ringraziamento caloroso alla nostra Paola Cortellesi e ai giovani. Non è stato facile in tempi di coronavirus mantenere il centenario, però il coronavirus ci ha fatto sentire, mi ha fatto sentire ancora più forte la presenza di Nilde. Per esempio quando c'era il bisogno di solidarietà, quando si parlava di un'Europa unita, quando si parlava e si parla di una unione tra i popoli, lei che è stata costrutice dell'Europa, che si è battuta per la cooperazione tra i popoli. Quindi la sua presenza è stata ancora più intensa. Noi con l'aiuto di tanti, voglio citare in particolare il comune di Reggio Emilia per le tante cose che ha fatto. Voglio ringraziare il sindaco di Reggio Emilia. Certo, con le difficoltà, però abbiamo potuto incrociare e discutere con dei giovani. Porterò il ricordo di quella domenica, 29 novembre, in cui con dei giovani della provincia di Como, dalle otto e mezza di sera alle undici abbiamo discusso di Nilde eotti, di intitolazione di luoghi importanti. Ecco, questo è bello, è una cosa nuova. Ci sono strade e credo anche dei giardini intestati a lei. Sì, abbiamo intanto il bellissimo lungomare di Pesaro, abbiamo intitolato la strada a Firenze, poi sale consigliari, aule dell'università, l'università di Cassino. E poi non finisce qui, perché diciamo il 2020 era l'anno del centenario, ma ci sono altre iniziative per l'anno che verrà. Sì, noi vogliamo proseguire, proseguiremo intanto con le donne e gli uomini che ci aiuteranno, con le amiche e le compagnie della Fondazione Nilde eotti, che ringrazio molto, con l'Istituto Gramsci, con la Presidenza del Consiglio. Proseguiremo questo cammino di approfondimento e soprattutto di, come dire, divulgazione di questo messaggio potente di Nilde eotti. Io penso che Nilde eotti, pensare a lei in questo momento, ci aiuti ad affrontare la durezza del cambiamento, ci aiuti a costruire una società più umana e più giusta. Bene, grazie Presidente.